Si è svolto ieri mattina alla CGL di Modica un incontro per discutere della situazione scandalosa di garanzia a giovani. Centinaia di ragazzi e molte aziende hanno aderito a questo progetto portato avanti grazie ai fondi europei. Fondi che sono stati stanziati per tutti quei giovani inoccupati che in questi mesi hanno intrapreso presso le aziende aderenti un tirocinio formativo. Diversi ragazzi attendono con ansia i primi pagamenti che per contratto dovrebbero essere bimestrali. Un respiro di sollievo è stato fatto per tutti quei tirocinanti che nel mese di maggio hanno intrapreso questa esperienza. Mentre voci ufficiose dichiarano che i pagamenti per i ragazzi che nel mese di giugno hanno cominciato il tirocinio sono partiti, ma ancora non le è arrivato. Molti ragazzi sui social sono convinti che il problema sia il centro di impiego di Modica, il quale non dà risposte chiare. L'incontro è stato organizzato da Francesco Pisana per cercare di capire meglio la situazione odierna. Abbiamo voluto fare questa riunione per dare anche alcuni chiarimenti ai ragazzi sui pochi diritti che ci hanno con il tirocinio. Oggi ci siamo visti per questo discorso di garanzia giovani e sullo stato dei pagamenti, che come tutti sappiamo ci sono dei forti ritardi in Sicilia e quindi abbiamo voluto dare questo servizio come CGL a questi ragazzi. Pare che le somme siano state sbloccate. Maggio, insomma, per i pochi, perché ricordiamo a maggio sono stati attivati nel nostro comprensorio di Modica circa un 70 tirocini che stanno prendendo i soldi. Per giugno e luglio, ripeto, dalle informazioni che abbiamo, sono partiti i pagamenti da parte dell'Inps e dovrebbero arrivare tra pochi giorni.